Sa Majesté, Madame Royale. Un'ora per metterci la palla, che capite, non arriva... Mamma mia, mamma mia! Già mi chiesto un gol perché ho messo il cuscino là, ma non ci ha mai matto. Hai capito, guarda... Mamma, la bibichina si è schiacciata le palla. Mi metto proprio il cuscino là, mi ha fatto... Che che voi avete fatto? Ho schiacciato le ditte sulle travaglie. Allumé. Nous siamo veramente contenti d'être entre noi, come tutti i samedi. Ma prima di cominciare la festa, il faut pensare un moment... Un petit moment, almeno... A un altro chere amie... Qu'il è morto assassinato per la mano di un colchon. La damara! Povera colonna! Quella che stava sempre facendo... Ma che la doveva fare quella fine? Lei so contenta che morta! Ha fatto bene, la mascarra! Ha fatto bene! Sapessi cosa mi ha combinato? Me l'ha fatta veramente grossi! Silencio! Povera Bianconi! Povera Bianconi! Che impressione mi ha fatto! Ma chi è questa damara? Ehi, 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 ehi! Silencio! Aussi voi, con il piano! Excusez-moi, ma... Un panino, por favor! Je ne l'ai pas mangé, madame! Quelchose di bere! Oh! Tutte le cose sono tante! Madame! Un petit panino! Madame la marchise! Venez! Vite, vite, vite! Le buffet! A moi? A vous! Ah, perché? Questi due qui non fanno niente! No! Les deux sont des bijoux! Sont pas des femmes de chambre! N'est-ce pas? C'est à vous! Ah, andiamo bene! Espichate un po' per la stagione! Ho fame! E aspettate un momento, affamate! Che roba! Ecco, io vorrei sapere come passo da questa porta! Quel guardaroba lì si mette in mezzo! Non so come faccia passare adesso! Ste due parti! Madame! Me lo vuole dire lei, per favore, come faccia passare con questa davanti alla porta? Ando mandando permission! Io lei? Ah, andiamo bene! Io ho una marchesa che chiede a questo un permesso, ma ti vuoi spostare un momento? Ce ne risponde Pa! Oh! Ah, già perché tu la bocca l'apri soltanto quando non ne fa parlare! Ah! La fa arrabbiare! Tu vieni con me! La fa arrabbiare sempre! Quella zuzzona di Sua Maestate ha già messo gli occhi addosso! Combien di fois doi dire che avanti di cominciare la fette il faut presentare a moi tutte le persone che viennent ici! Io parlo per voi, bambola di Pecchino! A moi? Vieni, vieni ici! Hai visto? Che ti avevo detto? Andiamo, va? Madame, Io vorrei presentare un amico a moi che vorrei avere l'onore di fare la vostra connaissance in Guinness. Un tre gioli garçon, n'est-pa? E il parla la nostra lingua? No, madame, l'italien. Italien? E di che città? Mestre, sapete a quante è di Venise? Oui. Venise, Venezia. E vous avez un gondole? Oui, madame, l'angue comme ça! Faites un garité, n'est-pa? Faites un garité! Faites un garité! Faites un garité! Allez, 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 allez! Nam se le va! L'ho fatte buttà corte a questo! Non, merci beaucoup. Eh dai, Alessio, siamo venuti per divertirci! Tu ci pianti qui senza far niente! Qu'est-ce que tu a dici? Je ne comprends pas. Tu veux parler avec notre langue, hein? Tout le monde attend que tu donnes l'ordre de danser. J'ai déjà dit che a cause della morte del colonnello Bianconi ce soir on danser pas. Ma tu guarda che fissa gli ha preso questa oggi! Dai, bambola, la mette sul disco! Ma quella s'arrabbia, monia! Non, non, non... Non, 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 non! Ma qui, c'est la morte ! Ma qui, c'est la morte ! Grazie a tutti. Oh Dio, la polizia. Bambola, cosa facciamo? Ma scusa, possiamo vestirci come ci pare, con la nuova legge non è anche più un reato, possiamo fare quattro mura in privato. Ma cosa c'entra? Pensavo alla Tamara, non vorrei che fossero venuti per questo. Ma sia chiaro che se voglio possa andare anche in tram vestito così. Ma non è questo, Antonio. Vai, vai tu alla porta, vai, che è meglio. No, Alessio, quando parli metti addosso un orgasmo ogni volta, ma di che hai paura adesso? Ma insomma, ma piantala. Io me la sentivo, non dovevamo ballare, l'avevo detto. Ma cosa c'entra questo? Buonasera, signor Antonio. Può dire ad Alessio di andare subito in via Vulcanelli 12, da Marietti. Che c'è? Mimina sta molto male. Buonasera, signor Antonio. Prego, prego. Buonasera. Come sta, dottore, sta bene? Bene, bene, prego. Oh, scusi tanto. No, siccome aspettavo degli amici, allora credevo fossero loro. Lei è il nuovo inquilino che sta qui. Scusi. Prego. Prego. Prego.